ecco oggi dopo una giornata dopo giornate di pioggia e di freddo e non a caso questo freddo si sentiva in modo abbastanza pungente guardate all'orizzonte come le montagne che erano ormai spoglie di neve sono di nuovo innevate e quel freddo che noi sentiamo oggi qui a san ginesio certamente non è una cosa che viene da chissà dove ecco proprio una bella nevicata sui monti che ci circondano sui cosiddetti sibillini però non ha fatto danni qui a san ginesio meno male questa pioggia oggi terminate le varie piogge la giornata si presenta terza e meravigliosa e approfitto appunto appunto per fare per rendere a voi visione di questa questa bellezza di questa giornata siamo ormai quasi nel pomeriggio siamo quasi verso il tramonto però ecco la giornata è terza stupenda speriamo che possa durare così guardate come la pianura ha ripreso grande vigore un verde meraviglioso e la primavera ormai speriamo che sia alle porte a tutti voi una buona serata